Musica Con Fabrizio Frates siamo al termine dell'incontro tra Crema ed Esio allora vi siete presi la rivincita dallo sconfitto interno dell'andata? Sì abbiamo fatto una bella partita, noi volevamo recuperare i due punti di domenica dove abbiamo veramente fatto una grandissima partita con Piacenza e poi l'abbiamo persa con gli ultimi tre possessi sbagliando tre tiri apertissimi e avevamo voglia di riscattarci pur sapendo che Crema è una squadra di vertice e di fasce altissime siamo venuti qua con la personalità giusta per essere un gruppo così giovane abbiamo pasticciato tanto all'inizio, direi tutti e due i tempi secondo tempo un po' di più contro la zona però devo dire che anche abbiamo tirato tante volte aperti senza riuscire a segnare e questo ha fatto sì che Crema ritornasse in partita lì abbiamo mostrato personalità, sono stati bravi ragazzi perché è un gruppo giovanissimo in un momento così difficile dopo aver perso dieci punti di vantaggio poteva collare il mondo addosso invece ci siamo messi lì, abbiamo reagito, abbiamo fatto le nostre cose credo che ci siamo meritati questi due punti che per la nostra classifica sono loro, platino una stagione che può cambiare di prospettive, 0 su 5 le prime 5 partite adesso una squadra che è ai margini della zona playoff sì ma noi abbiamo un obiettivo chiarissimo in testa metterci 5 squadre dietro perché non vogliamo andare a play out che sappiamo sono una lotteria soprattutto per un gruppo così inesperto come il nostro abbiamo fatto un inizio terribile perché non ci conoscevamo perché tantissimi ragazzi sono esordienti in questa categoria adesso abbiamo preso fiducia, c'è un bellissimo gruppo dal punto di vista umano e lavoriamo benissimo durante la settimana e questo ha fatto sì che insomma abbiamo infilato sette vittorie su dieci le ultime dieci partite, insomma stiamo crescendo sicuramente però dobbiamo rimanere coi piedi per terra e pensare al nostro obiettivo di inizio anno che non cambia grazie